Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg di TV City in apertura alla cronaca, siamo a Torre del Greco, picchia la madre che gli nega i soldi, un 34enne è stato arrestato dai carabinieri, ancora cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza, controlli a Ponticelli e anche nei rioni ad alta densità criminale della città di Torre. Annunziata poi l'aggiornamento sui contagi, sale a quota 100 il numero dei casi a Torre del Greco, dati in salita anche a seguito del mini focolaio all'istituto Angioletti. La Campania è tra le regioni a rischio moderato. Il Governatore De Luca l'ha annunciato ieri nel convegno di Confindustria, terza dose di vaccino per il Presidente che ha poi parlato del divario tra Nord e Sud e la ripartizione delle risorse. In chiusura l'iniziativa delle volontarie ospedaliere dell'Avo, domenica 24 ottobre, all'ospedale Maresca. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Chiede soldi alla mamma e al rifiuto della donna la aggredisce, mettendo a suo quadro l'appartamento. È accaduto a Torre del Greco dove i carabinieri, allertati dal 112, sono prontamente intervenuti presso l'abitazione dell'uomo, che aveva picchiato e spintonato sua madre perché voleva del denaro mettendo a suo quadro l'intero appartamento. I militari, con non poche difficoltà, hanno bloccato il ragazzo di 34 anni e gli hanno stretto le manette ai polsi. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e la donna è stata portata all'ospedale Maresca dove a seguito degli accertamenti dei sanitari sono state riscontrate delle contusioni al bacino e varie ecchimosi al volto. Dai racconti della vittima sono emersi diversi episodi di violenza che la donna aveva subito in passato dal figlio. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato nel carcere napoletano di poggio reale. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel quadro del costante monitoraggio dello stato della sicurezza nell'area urbana e metropolitana, ha pianificato negli ultimi giorni su disposizione della Prefettura di Napoli sentito il Comitato Provinciale per l'Urdine e la Sicurezza Pubblica, diverse operazioni ad alto impatto intensificando i controlli sia nel quartiere Ponticelli che nei rioni a maggiore densità criminale della città di Torre Annunziata. I baschi verdi del gruppo pronto impiego di Napoli con le relative unità cinofile antidroga supportati dai colleghi del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli e dei finanziari ATP del gruppo di Giuliano in Campania hanno eseguito nel quartiere Ponticelli 117 controlli tra persone e automezzi e sanzionato 17 responsabili, 6 dei quali denunciati per violazioni in materia di contraffazione marchi, stupefacenti e contrabbando di sigarette. A Torre Annunziata, i baschi verdi del gruppo locale supportati dai colleghi ATP di Napoli e dall'unità cinofile della compagnia di Capodichino hanno eseguito 988 controlli a mezzi e persone, 60 le situazioni lecite rilevate tra denunce all'autorità giudiziaria e segnalazione alla prefettura per droga, violazione al codice della strada, abusivismo edilizio, ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Nel rione Murattiano sono state effettuate varie attività di rimozione di dissuasori abusivi applicati ai margini della carreggiata che di fatto avevano mutato le caratteristiche del manto stradale limitando la regolare viabilità. Denunciati per abusivismo edilizio, quattro soggetti che, privi delle obbligatorie autorizzazioni amministrative avevano costruito delle rampe di accesso a locali ai quali avevano cambiato di iniziativa la destinazione d'uso adibendoli a garage. Gli interventi rientrano nel quadro della costante attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, svolto dalle fiamme gialle parte europee anche in sinergia con le altre forze di polizia a fine di contrastare fenomeni di illegalità. Sale nuovamente a quota 100 il numero di casi a Torre del Greco secondo infatti l'ultimo bollettino sono 88 quelli in isolamento domiciliare e 12 gli ospedalizzati. Nella giornata di ieri infatti sono stati certificati 11 nuovi casi di positività al Covid-19 e due nuove guarigioni. Numeri in aumento anche in seguito al mini focolaio all'istituto Giovanni Battista Angioletti. Dai controlli effettuati sarebbero 9 i casi di scontrati nella scuola di via Giovanni XXIII che hanno portato alla sospensione delle attività didattiche sia della sede centrale che di tutti i plessi nella giornata di oggi per consentire una sanificazione dei locali. Tutti i bambini sono asintomatici e in buone condizioni di salute. Mutta così il bilancio della 565 giornata consecutiva di attività del COC. Totale ospedalizzati 12, totale in isolamento domiciliare 88, totale guariti dal Covid-6783, totale decessi 176. Intanto il rieve risalita è pari a 34 casi per 100.000 abitanti l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale calcolata ieri. È aumentata questa settimana in 17 regioni e province autonome rispetto ai valori registrati nella settimana precedente. Si registra un rieve aumento dell'RT nazionale. Questa settimana quattro regioni risultano classificate a rischio moderato rispetto alle tre della scorsa settimana. Sono Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Delle restanti 17 regioni e province autonome risultano classificate a basso rischio. La terza me la faccio domani, venerdì. Ecco, quindi ho detto che è un pericolo pubblico e in questo momento... Quindi stiamo tranquilli, è un livello di anticorpi. L'annuncio del governatore della campagna, Vincenzo De Luca, ieri nel corso del convegno della Confindustria su nord e sud alla stazione marittima di Napoli. È stato lo stesso presidente tra i primi a vaccinarsi lo scorso 27 dicembre con l'obiettivo di dare l'input alla campagna vaccinale, a darne notizia. Focus dell'intervento, il divario tra nord e sud e la ripartizione delle risorse economiche. Noi abbiamo 209 miliardi, non per il Covid, ma per recuperare il divario con il sud. Questo dato non è chiaro a tutti quanti, altrimenti non avremmo avuto 209 miliardi. L'obiettivo è recuperare il divario territoriale, grandi infrastrutture, sociali, a livello disoccupazione e il divario di genere, disoccupazione femminile. Per affrontare il problema del sud ci vogliono, prima che risorse, una classe dirigente che abbia struttura morale, ideale, senso dell'unità nazionale per fare questa operazione. Non è mancato tuttavia un cinno ai no Green Pass e ai no Vax. In questo momento abbiamo i no Green Pass, un altro fenomeno tutto italiano. Come lei ha potuto vedere, ormai i no Green Pass vanno in giro per l'Italia. Cioè è diventata questa non un'attività di protesta sanitaria, ma è diventata un'attività sportiva. Ormai vanno a fare i frutting, abbiamo tutti i radical chic, chi va a fare il picnic a Trieste con lo zainet in no Green Pass. La quantità di bestialità che abbiamo ascoltato, lo Stato di diritto, lo Stato di eccezione, le scemenze. Io sono per raddoppiare il prezzo dei tamponi, non per darli gratis. Lo Stato ti dà la vaccinazione gratuita. Se non ti vuoi vaccinare, il diritto di andare a contagiare i tuoi compagni di lavoro, i bambini a scuola, non ti è concesso dalla Costituzione. La settimana scorsa abbiamo registrato la prima scuola in Campania con un focolaio di Covid, una scuola comprensiva. Siamo credo una ventina di bambini positivi. Abbiamo fatto il contact tracing, abbiamo visto dove vivevano. Tutte le famiglie, genitori non vaccinati. Non vaccinati. Questo dovrebbe essere lo Stato di diritto. Questo è lo Stato della cialtroneria, del farabuttismo, della irresponsabilità. Con buona pace degli intellettuali radical chic. Negli studi di TV City, Raffaella Petrillo, presidente dell'Associazione AVO, volontari ospedalieri, domenica 24 in occasione della giornata nazionale, avete programmato un'iniziativa all'ospedale Marisca. Noi siamo federate a livello nazionale, quindi il nostro presidente ha pensato per questo momento così particolare una rinascita per l'AVO, perché adesso riprenderemo anche il servizio, anche se a piccoli passettini, ma lo riprenderemo. Lui ha consigliato di piantare una piantina o nell'ospedale o in una villa comunale, laddove possiamo avere visibilità. Questo piantare un alberello significa rifiorire, perché anche se un alberello appassisce, poi con la cura rifiorisce e quindi continua la vita. Noi abbiamo pensato di mettere questo alberello di olivo il 24 domenica all'ospedale Marisca, dove noi facciamo servizio. Un'iniziativa dunque dall'alto valore simbolico. Sarà una piccola riunione delle volontarie, quelle che poi decideranno di fare di nuovo il servizio in ospedale. Un po' quella volta facendo servizio non nei reparti, perché sarebbe difficile, però un'accoglienza, un'accoglienza alle persone che si recano in ospedale, vogliamo riprendere a fare il servizio, anche se non all'ammalato direttamente, ma ai familiari degli ammalati, alle persone che vanno negli ambulatori. Ricordiamo quali sono le mansioni delle volontarie dell'Avo? Fino a prima del Covid noi ci occupavamo proprio dei malati. Andavamo nei reparti, aiutavamo i malati della medicina, davamo da mangiare, vestire, pulire un poco, fare compagnia, fare anche servizio negli ambulatori, perché non è che facciamo il servizio per l'ospedale. Noi facendo servizio in un reparto, comunque aiutiamo l'ammalato, perché noi sappiamo benissimo che nell'ospedale Maresca c'è carenza di personale, quindi non è che noi facciamo servizio e aiutiamo il medico, aiutando il medico, aiutando gli infermieri, aiutiamo allo stesso tempo i malati. Le volontarie con il camice e il distintivo sono persone che faranno da tramite, malato, medico, famiglia. Questo è quello che faremo adesso. Quindi come questa piantina è un primo passo per ricominciare. Io ci ho fatto fare anche una bella targhetta, la metto vicino, perché i volontari vogliono che tutto il servizio, l'ospedale, i volontari, un po' tutti, dobbiamo rinascere, perché è difficile, però la rinascita ci deve essere. Un passettino alla volta ripristiniamo il servizio e diamo un aiuto a chi ha bisogno. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561484. Con questo è veramente tutto. Buona fine settimana. Il TG di Tivusiti vi dà appuntamento a lunedì.